Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile, soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione. Benvenuti al meteo, anticiclone in indebolimento per il passaggio di correnti più fresche e instabili settentrionali, weekend del primo maggio con tempo instabile. Vediamo insieme il dettaglio. Sul Veneto condizioni estremamente variabili come vediamo, nuvolosità irregolare alternata a schiarite specie al pomeriggio. Saranno probabili rovesci diffusi un po' ovunque ma in esaurimento entro la serata. Temperature in lieve calo, minime comprese tra 8 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra i 17 e i 19 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso cielo nuvoloso con la possibilità di qualche pioggia. Nel pomeriggio possibili schiarite specie a ovest e sulla costa. Temperature minime tra gli 11 e i 14 gradi, massime sui 18-19 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui cielo coperto con temporali piuttosto diffusi, anche qui migliora entrosera. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 18 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Cozza Arredamenti 2C congela i prezzi per tutto il mese di aprile. Soluzioni su misura e super sconti sulla merce in esposizione!